Il ritmo è nel Simentone e il Muona Mokei con Tumamo andiamo a venire sui primi viragio Tumamo e il Muona Mokei è sui strumenti su Tupac il primo arcato è passato in sesso in sanzioni ma la musica è in giù Tumamo e il Viroge sarà stato giurantato di un campione per la Tumamo e sui strumenti e sui strumenti è stato insieme alla Mokei sarà dentro il Vandereiden Vandereiden Tupac Sprint finale